manca poco la chiusura di una settimana molto importante che ha visto l'evolversi di due eventi il primo evergrande la crisi del colosso immobiliare cinese che ci ha fatto aprire lunedì questa è la candela di lunedì dell'S&P 500 questo è l'etf spy con pesanti ribassi con gap notevoli rispetto alla chiusura di venerdì e poi durante la settimana anche grazie all'intervento della fed con la sua riunione periodica nel corso della quale è stato ribadito tassi a zero fino alla fine del prossimo anno parola magica questo porta sempre ossigeno a mercati che si muovono ormai da un po' di tempo molto sull'onda sempre della liquidità facile almeno disponibile per certi operatori liquidità facile che prende diversi canali il principale è quello dei buyback anche quest'anno abbiamo circa 800 miliardi di buyback in programma quindi tutta questa massa di liquidità chiaramente ogni volta che viene pronunciata la parola magica riporta a gala le quotazioni però qualcosa è cambiato la struttura di alcuni mercati sembra stia cambiando dopo praticamente dieci mesi di corsa al rialzo iniziata nel mese di novembre dopo la notizia dei vaccini novembre 2020 qualcosa sta cambiando e lo vediamo dai nostri indicatori tecnici il s&p 500 e li in bilico per segnare il cambio di colore della volatilità stop line non è ancora avvenuto mentre il cambio di colore è già avvenuto per il dow jones che per il terzo giorno è diventata ha cambiato colore ed è passata al nero quindi segnale ribassista per il dow jones è la stessa cosa per il dax che andiamo a vedere adesso anche per analizzare il dax il secondo giorno di cambio colore il dax il cambio di struttura l'aveva già preannunciato con il famoso gap del 8 settembre gap non chiuso fino ad oggi e con cambio di struttura ormai è chiara chiaro come si stiano delineando dei minimi decrescenti e dei massimi decrescenti e confermati oggi da un altro massimo decrescente dato dalla doggie star di ieri quasi doggie star evening star stella della sera la stella della sera è una candela che come questa con un corpo molto piccolo che si separa con un gap prima e un gap dopo dalla candela che la precedono e la candela che segue quindi candela della sera perché prelude appunto all'instaurarsi di un massimo relativo la candela di oggi è buona mentre altre volte avevamo visto come vuoi per il colore vuoi per il fatto che la candela non aveva sufficientemente ritracciato il percorso precedente insomma per farla breve questa da un punto di vista tecnico è una configurazione valida di evening star tra l'altro con la star che spaccata sulla resistenza che qui è riportata in area 15 6 e 50 e questi livelli sono qui non ovviamente io non li tocco basta andare a vedere i video precedenti quindi non c'è niente di magico sono questa è l'analisi tecnica è fatta per individuare appunto questi chiamiamoli livelli magnete no verso i quali i prezzi tendono a dirigersi a ea oscillare anche per questo ho sempre detto di non considerare mai i valori puntuali per aprire chiudere posizioni perché comunque il mercato la sua volatilità questo di 15 6 e 50 è un valore sul quale i prezzi oscillano se andiamo a vedere appunto il grafico a linea che smussa un po le oscillazioni vedete come quante chiusure ci sono state in area 15 8 quante chiusure qui e anche questa volta 15 6 e 50 ha fatto il suo lavoro in questo caso un lavoro di resistenza quindi la settimana prossima vedremo se proprio questa struttura verrà confermata con prezzi che continueranno a permanere nel canale discendente che sembra si sia ormai impostato i dei livelli ne abbiamo parlato direi che questo scenario ne abbiamo parlato nei video precedenti invito a vedere i video della settimana ricorderei solo un numero importante perché tutto questo ovviamente c'è sempre un piano b perché l'analisi tecnica studia scenari su base probabilistica non fa previsioni non palla di cristallo l'ho detto tante volte non ce l'ha nessuno quindi se per qualche motivo i prezzi dovessero tornare sopra 15 8 questo scenario verrebbe annullato questo scenario che ho appena detto di cambio di struttura con trend ribassista correttivo dico correttivo perché guardate siamo ancora sopra ben sopra la media 200 quindi chiaro si sta delineando una figura di top complesso come ho detto altre volte però secondo me il livello il momento chiave come ho detto in uno dei video della di questa settimana quando dicevo ultimi supporti per il dax e il dow jones e quindi livello chiave qui è area 15 3 15 mila quindi quella segnata dall'ennesima candela dove le mani forti hanno diciamo tenuto e poi da qui è partito il rimbalzo quindi è la candela dove mi trovo adesso col puntatore quindi sotto questi livelli diciamo con un'accelerazione al ribasso anche qui dal punto di vista probabilistico ci sarebbe e quindi abbiamo visto l'america che comunque ancora deve chiudere rivediamo un attimo le sempre 500 ecco vedete come vi dicevo è lì in bilico perché il mercato è ancora aperto con una chiusura su questi livelli vedete che anche l'S&P 500 metterebbe pallino nero sulla volatility stop line siamo sulla tocca non tocca comunque oggi è una giornata inside vedete la range di oggi completamente all'interno del range di ieri quindi è una giornata interlocutoria ieri avevo detto che me la sarei aspettata una giornata così l'andamento cioppi andiamo a vedere sul cinque minuti cioppi cosa significa in gergo significa che il mercato dopo la il movimento della prima mezz'ora poi soprattutto dopo la chiusura dell'Europa del 17 e 30 comincia a diventare erratico i volumi sono molto bassi molti operatori tendono a anticipare il weekend i desk si svuotano e quindi salvo sorprese particolari la giornata potrebbe concludersi anche così su questi livelli quindi su questi livelli l'S&P sarebbe il terzo degli indici principali a rompere la struttura della volatility stop line quindi settimana importante l'altro evento del giorno che ha a che fare con l'equity fino a un certo punto ma il concetto più generale della liquidità diciamo che sposa anche il tema delle cripto valute di tutti gli asset speculativi che chiaramente sono alimentati dal dalle posizioni prese a margine quindi dalla liquidità facile il governo cinese sta iniziando una campagna di contenimento di tutte queste bolle ha cominciato con i titoli della tecnologia per cui come abbiamo visto come vedremo poi c'è abbiamo gli indici carichi di titoli tecnologici come il china 50 che sono praticamente in down trend da diversi mesi lo sta facendo su altri settori settore in fase bolla tipo il settore dei casino e poi l'altro grosso tema è quello del settore immobiliare che per il modo in cui è stato strutturato e gestito in questi anni ha dato origine a situazioni molto critiche dal punto di vista finanziario oggi è toccato al bitcoin alle cripto valute giro di vite la banca centrale cinese sulle cripto valute etereum perde più del bitcoin la people's bank of china ha detto che proibirà alle istituzioni finanziarie alle società di pagamento e alle imprese internet di facilitare il trading di cripto valute rafforzerà il monitoraggio di tali attività sotto pressione anche le azioni legate alla blockchain devo dire queste sono iniziative che da noi invece stanno prendendo la direzione contraria nel senso che dove c'è da far soldi i nostri vanno a prescindere quindi mentre qui appunto si ostacola il trading da noi siamo almeno se qualcuno tenta di andare dalla direzione contraria cioè addirittura di creare tf di facilitare gli strumenti di trading su su questi asset che insomma non è questo il momento di parlarne perché ci vorrebbe un video a parte forse ne troverete qualcuno nella sezione blog sono molto critici risultato bitcoin e lo rappresentato qui in questo momento segna meno 6 per cento altre di queste cripto hanno andamenti anche più accentuati ma quello che volevo farvi vedere a proposito di liquidità mettiamo il confronto con le sp 500 nuova scala di prezzo guardate come negli ultimi mesi dice ma cosa c'entra il sempre 500 col bitcoin e torno al discorso della liquidità cioè questi strumenti sono stati mossi molto negli ultimi tempi anche da dalla liquidità facile che ha consentito l'apertura di posizioni a leva e le di posizioni speculative il buy the dip sul l'S&P 500 cioè ogni volta che l'indice tocca la media x si compra occhi chiusi tanto sale tanto sale sempre la prima la seconda la terza la quarta la quinta volta poi arriva il giorno che si rischia di scendere con l'ascensore e tutte queste posizioni devono essere smontate tutte assieme per questo che nascono i candeloni i candeloni nascono in questo modo perché appunto poi dopo scattano le margin call eccetera eccetera comunque per il momento la situazione è questa a volte l'andamento dell'S&P ha anticipato quello del bitcoin a volte adesso ho tolto la paragone comunque prendete per buono quello che vi dico a volte il bitcoin si è mosso prima l'S&P dopo comunque questo giro di vite dato dalle autorità cinesi vediamo se avrà delle conseguenze la settimana prossima sarà molto interessante anche perché le banche centrali questa settimana compresa la banca d'inghilterra che ha detto che l'anno prossimo potrebbe rialzare i tassi hanno dato uno scossone ai bond perché rialzo dei tassi significa ribasso dei bond questo è l'etf sul decennale americano ma io francamente qui non vedo ancora rotture di supporti importanti sì ieri soprattutto dopo la notizia della banca d'inghilterra c'è stata l'espansione al ribasso oggi ci siamo seduti sui supporti con volumi molto bassi vediamo vediamo la settimana prossima perché ci sono tutta un'altra serie di situazioni che rendono secondo me poco probabile in questo momento una rottura dei supporti che dal punto di vista tecnico adesso questo adesso stiamo vedendo il tlt che le tf sul trentennale quindi stiamo vedendo due abbiamo visto due scadenze il decennale il trentennale americano trentennale americano addirittura è anche sopra media 200 sopra volatilità stop line quindi qui non è successo assolutamente nulla da vedere la settimana prossima perché appunto dal punto di vista tecnico qui la struttura è ancora robusta e non ci sono stati danni particolari siamo all'interno di un trading range siamo andati a vedere i supporti niente di più niente di meno continuiamo con il petrolio il petrolio sicuramente va menzionato perché questo potrebbe ecco questo potrebbe essere un fattore di innesco di tensioni dal punto di vista inflazione per le prossime settimane prossimi mesi soprattutto se continuerà a confermare la sua forza avete visto la rottura di area 70 che è stata poi confermata anche qui questi sono livelli che sono tracciati lì da settimane però vedete come funzionano bene da magnete magnete vedete come ci oscillano sopra e sotto il valore puntuale compro se rompe 70 vendo se rompe 70 porta a una valanga di falsi segnali non è quello l'approccio per chi fa trading però il livello qui ha fatto da supporto era prima una resistenza ci aveva battuto tre quattro volte qui avevamo detto che ci sembrava potesse abbozzare un doppio top poi invece è passato e quindi adesso si apre la strada verso area 75 76 verso i massimi lì ci sono sicuramente i venditori o almeno c'erano i venditori fino a qualche settimana fa il mercato nel suo meccanismo nel suo processo di price discovery probabilmente andrà a vedere se ci sono ancora le probabilità sono alte che si vada a questo punto a attestare quei livelli non siamo lontani oggi 74 e 10 tranquillo loro chiude la settimana tranquillo a 1750 anche qui altro valore altro livello magnete che in questo momento loro è tranquillo da diverse settimane e lì come avevo detto altre volte acquattato vediamo dipende questo è uno strumento che si muove in certe situazioni e quindi anche qui secondo me è da seguire il china 50 di cui stavamo parlando ecco il famoso downtrend sta costituendo una base ma la sta costituendo con un triangolo flat in basso il triangolo sarebbe questo qui che vedete un triangolo perché questi massimi sono decrescenti quindi il livello verso l'alto da tenere d'occhio è 15 6 però l'impostazione per il momento rimane negativa ancora più negativa quella dell'ang seng l'indice di hong kong un'altra delle borse più importanti dove sono quotati molti dei titoli tecnologici vedete qui siamo sotto media 200 e sotto volatilità stop line queste situazioni dobbiamo continuare a monitorarle perché l'impatto poi rischia comunque di esserci per tanti motivi bene io verrei adesso un paio di richieste un amico mi chiedeva di dare un'occhiata al nasdaq il nasdaq non è in una situazione abbiamo visto l'S&P direi che la situazione è molto simile anche per il nasdaq non c'è ancora il cambio di colore della volatilità stop line però anche per il nasdaq è stata la settimana analoga quindi vedete come sta appena chiudendo il gap di lunedì non ci è riuscito quindi comunque anche per il nasdaq guardate che la forza la pesantezza delle vendite traver scusate tra venerdì e lunedì anche per il nasdaq diciamo c'è la prospettiva di un cambio di struttura però fino a questo momento il segnale della volatilità supply non è arrivato evergrande oggi meno 11 ma diciamo questa lascia un po il tempo che trova perché una società all'orlo di default ha già perso il 90 per cento diciamo non è da qui che ci attendiamo segnali particolari STM un amico mi chiede se è iniziata la correzione allora dal punto di vista dell'impostazione tecnica no siamo ancora perfettamente con tutto ben allineato e coperto non vedo grosse divergenze sugli indicatori le uniche diciamo gli unici segnali che vedo in effetti potrebbero preludere una correzione che non è detto che sia un tonfo è un correzioni molto spesso sono prezzi che vanno di lato sono queste configurazioni candlestick in particolare questa il 15 settembre questa è una shooting star a cui è seguita una bearish engulfing da manuale con un ritest che è stato effettuato in questi giorni con volumi molto bassi quindi questa configurazione non è esattamente il massimo del mercato rialzista anche perché queste configurazioni così nette non le vedevamo su STM da un po tolti questi segnali di allarme che sono segnali di allarme non sono segnali di catastrofe perché abbiamo visto in altri esempi che prima che la struttura del mercato cambi di questi segnali se ne potrebbero ancora manifestare e addirittura potremmo anche vedere nuovi massimi cioè non questi non sono segnali operativi quelli del candlestick sono segnali che danno appunto sintomi di una certa situazione quindi per rispondere all'amico ecco direi è iniziata la correzione non lo sappiamo qualche campanello d'allarme però in effetti c'è stato quindi l'amico ci ha visto bene da questo punto di vista ok direi è tutto per questa settimana un'altra settimana da incorniciare tanti spunti tecnici continuate a seguire i canali sia su trading view che su youtube continuate a postare i vostri commenti anche le prossime settimane saranno vedrete molto interessanti come ci aspettavamo e come avvenuto sia ad agosto che per tutto il mese di settembre va bene intanto buon fine settimana a tutti grazie come sempre dell'attenzione appuntamento a lunedì grazie a tutti